Ciao, sono Dario di Alternativa Linux. Il terminale di Linux consente di scatenare la potenza nascosta sotto il desktop. Oggigiorno puoi farne a meno per compiere quasi tutte le operazioni più comuni, ma prenderci un po' di dimestichezza scopri quanto talvolta sia conveniente usarlo per fare meglio e prima tante cose. Grazie alla disponibilità in Linux di strumenti dotati di interfaccia grafica per configurarne ogni aspetto e programmi per soddisfare qualunque esigenza, viene da chiedersi perché uno dovrebbe imparare ad eseguire comandi da terminale e ad accedere alla cosiddetta shell di Linux. Se adoperi il computer per un utilizzo di base, come navigare, usare mail, elaborare documenti, stampare, ascoltare musica e guardare video, non ne hai bisogno. Tutte queste caratteristiche possono benissimo venire sfruttate al meglio interagendo graficamente con Linux. Il valore del terminale si presenta con l'amministrazione avanzata del sistema. Diverse attività sono più facilmente compiute usando comandi shell che usando un'interfaccia grafica. Solo per cominciare, se vuoi installare un pacchetto software di cui conosci il nome, almeno in Linux Mint, che chi mi segue sa essere il mio sistema operativo di riferimento, è molto più rapido aprire un terminale con la combinazione di tasti CTRL-ALT-T e digitare sudo apt-get install nome programma, piuttosto che aprire il gestore applicazioni, attendere l'aggiornamento degli indici, cercare il programma, cliccarne la scheda e premere installa. Malgrado già questa semplicità sia una cosa fantastica. Altro valore aggiunto della shell di Linux sono le possibilità di scripting. Con uno script puoi creare un file di testo contenente una lista di comandi ed istruzioni per eseguirle con una singola azione. Puoi ad esempio creare una lista dei tuoi programmi preferiti non preinstallati, scriverla in un file di testo e ogni volta che reinstalli Mint installarli tutti insieme con un singolo comando. Linux Mint viene fornito con l'emulatore di terminale di Gnome. Gnome è un differente ambiente grafico cui ad esempio anche Ubuntu si appoggia per le versioni più recenti, ma il suo emulatore di terminale funziona anche su Linux Mint in tutte le edizioni e svolge egregiamente il suo lavoro. Nulla toglie però che si possa preferirne uno differente adottando ad esempio alternative come Wake, Terminator, Console. Si parla di emulatore di terminale perché si tratta comunque di un programma grafico dotato di una sua finestra che simula il comportamento di un sistema privo di ambiente grafico. E spesso sentirai parlare di Bash quando si cita la shell di Linux. Bash è un interprete dei comandi, ma non è l'unico. Ma c'è anche un altro modo per accedere alla shell di Linux senza necessità di un emulatore di terminale. Perché si può usare il Terminale Teletype, TTY, un terminale a tutto schermo che disattiva temporaneamente la modalità grafica di Linux per darti accesso diretto al suo interprete dei comandi. In Linux Mint puoi aprirne fino a 6 diversi, passando dall'uno all'altro con le combinazioni di tasti CTRL-ALT insieme ai tasti da F1 a F6 e ritorni all'ambiente grafico con CTRL-ALT-F7. Linux Mint installa un'icona per l'avvio del terminale nel pannello ed un'altra tra i preferiti del menu. Lo trovi anche nel menu sotto la categoria Amministrazione. Ma un modo rapido per avviarlo, come citato, è la combinazione di tasti CTRL-ALT-T, tanto che per questo io lo elimino le icone dal pannello e dai preferiti del menu. All'avvio del cosiddetto prompt, oltre all'indicazione utente chioccio la sistema che identifica quale account utente sta operando su quale sistema, dopo i due punti vi è l'indicazione della localizzazione attuale del terminale all'interno della struttura di file di Linux. All'avvio il terminale è localizzato solitamente nella cartella home dell'utente che lo ha lanciato. Essa è indicata dal silbolo tilde, abbreviazione di slash home slash utente. Segue poi quella del dollaro, che indica che i comandi stanno per essere impartiti con privilegi di utente normale e non di amministratore. Ed il cosiddetto prompt è in attesa di istruzioni da eseguire in questo percorso, come indicato da lampeggiare nel cursore. Per chiuderla ovviamente puoi premere la X, localizzata nel lato superiore destro della finestra stessa, oppure impartire al prompt il comando EXIT e confermare con invio. Nel terminale di Linux Mint di solito quando impartisci un comando attendi una conferma del successo dell'operazione e poi vieni riportato al prompt in attesa di ulteriori istruzioni. Altre volte invece ritorni semplicemente al prompt senza alcun avviso. Questo significa che l'operazione è stata eseguita. Se sbagli a digitare qualcosa verrai avvisato di un errore oppure puoi attenderti un risultato imprevisto. È anzitutto opportuno chiarire il significato di file system perché può assumere significati diversi a seconda del contesto. Può infatti indicare il tipo di struttura di partizioni di hard disk. In questo contesto NTFS è il file system tipico di Windows e Dext 4 quello attualmente più diffuso in ambiente Linux. Ma nel contesto di questo punto, per file system intendo il sistema di directory, cartelle, tipico di una installazione Linux ed il modo per navigare da una ad un'altra in assenza di un ambiente grafico. Puoi dargli un'occhiata aprendo il file manager NEMO in Linux Mint e cliccando nel riquadro laterale la voce denominata appunto file system, oppure digitare nel terminale ls-l/. Questo comando ls-list storage viene passato con l'opzione "-l", che richiede di mostrare il risultato in formato lungo, con tanti dettagli invece che solo il nome delle cartelle in una sola riga. Lo slash finale indica al comando ls che non vuoi una rappresentazione del contenuto alla posizione corrente del terminale, ma ad un percorso preciso all'interno del dispositivo. E lo slash indica la directory root o radice dell'intera struttura. Slash è l'inizio della partizione, il percorso base. In Linux qualunque contenuto è una sottocartella di slash. Ecco perché la cartella home è sempre indicata in formato slash home e quella di ciascun utente abilitato nel sistema come slash home utente 1 o slash home utente 2. La prima cosa da notare è che, a differenza di Windows, non ci sono letterale per unità di partizioni. Non c'è c2p per il sistema operativo e d2p per il lettore DVD. Ed è anche necessario metabolizzare il concetto per cui il terminale si trova sempre in una particolare posizione all'interno di questa struttura, pronto ad eseguire comandi su file e cartelle nel percorso corrente, o a spostarsi prima su un altro percorso, oppure ad invocare programmi installati senza necessità di dirgli dove sono localizzati. Per sapere dove è attualmente localizzato il terminale nel file system di Linux puoi digitare il comando pwd e intuitivamente vedrai stampato a schermo come risultato slash home slash tuo utente. E alla riga successiva che il prompt è di nuovo in attesa di fare qualcosa per te. Se pare complicare la situazione è invece un vantaggio che i percorsi possano venire indicati sia come relativi che come assoluti. Cioè sia rispetto alla posizione attuale del terminale, sia rispetto alla radice. Prendiamo il comando cd, che come endos serve a cambiare directory. Per entrare nella tua cartella musica saresti tentato di istruire il terminale così. Ed è giusto, il prompt ti apparirebbe subito nella forma utente chioccio la sistema tilde slash musica. Ma se sei nella directory home puoi dire al terminale anche solo cd musica. Senza precedere la cartella con lo slash stai dicendo al terminale di accedere ad una sottocartella con tale nome presente all'interno del percorso attuale. E se digiti semplicemente ls puoi vedere un elenco rapido del contenuto nel percorso in cui ti trovi. Con il comando cd puoi indicare percorsi sia relativi che assoluti. Il percorso assoluto è quello indicato a partire dall'inizio della partizione, con lo slash iniziale fino alla cartella desiderata. Nell'esempio appena citato non è necessario, perché sei già nella tua cartella home sotto slash home slash utente e puoi indicare il percorso relativo a partire da essa. Se vuoi spostare il terminale su di un livello rispetto al percorso attuale puoi digitare cd spazio punto punto. E anche sul termine root bisogna fare chiarezza, perché vi sono differenti accezioni. Quella relativa alla radice del file system di Linux, come indicata dallo slash, quella relativa alla directory che si trova nel percorso slash root, e sia per riferirsi all'utente onnipotente nel sistema Linux. La cartella slash root è la home dell'utente omonimo che in Linux non è mai localizzata all'interno di slash home come per gli utenti standard. Questo perché l'accesso a tale cartella è negato a tali utenti. Se provi infatti a digitare nel terminale ls slash root, il terminale ti spiegherà che non ti è consentito entrarci, vederne il contenuto, né operarci in alcun modo. Di solito il ricorso all'utente root è scoraggiato per motivi di sicurezza e per evitare danni accidentali al sistema. In Linux Mint è disabilitato per impostazione predefinita dell'installazione. Ma sebbene si possano impartire alla shell comandi come si fosse root, con il comando sudo, non ci si può connettere al sistema come root. Vediamo brevemente come sono organizzate le cose in Linux Mint come in tutte le altre distribuzioni basate su kernel come Raspbian, gli smartphone Android e ovunque questo sia installabile. Slash Bin. Qui sono salvati i comandi accessibili da tutti gli utenti. Gli eseguibili del comando ls ad esempio si trovano qui. Slash Boot. Qui ci sono le informazioni per il caricamento del sistema. Slash Dev. Qui ci sono i device, le periferiche hardware come hard disk, schede audio eccetera. Slash Etc. Vi vengono salvati i file di configurazione usati nel sistema. Come Samba, che si occupa delle funzionalità di rete multipiattaforma, o il file FSTAB, su cui sono salvate le informazioni sulle partizioni e il relativo montaggio nel sistema. Slash Home. Come detto, ospita le singole cartelle degli utenti per documenti, file scaricati, multimedia e impostazioni specifiche di ogni account. Slash Lib. Percorso delle librerie necessari ad altri programmi. Slash Media. Questo è il luogo in cui trovare le periferiche di archiviazione esterne come hard disk e chiavette usb quando sono collegate al sistema. Come detto, Linux non usa lettere. Tutto si trova all'interno del percorso, la dice, Slash. Slash MNT. Indica i percorsi di montaggio manuale. È un residuo del passato ormai quasi interamente sostituito da Slash Media. Slash Opt. Programmi installati successivamente, da pacchetti DEB ai di fuori dei ripositori ufficiali, si posizioneranno qui. Ad esempio Google Chrome, Skype, TeamViewer. Slash Proc. Nella cartella ci sono file virtuali che rappresentano processi e dati del kernel Linux. Slash Root. È la home dell'utente root. Slash Sbin. Il percorso per i file binari dei programmi cui solo un utente con privilegi di root ha accesso. Slash TMP. Il luogo dove sono memorizzati i file temporanei per i processi in esecuzione. Slash USR. Vi risiedono applicazioni e utilità fruibili da tutti gli utenti. Slash VAR. La directory in cui trovare log, spool di stampa e tanti altri file modificati continuamente. Compreso il modo di spostarsi nel file system vediamo un po' come gestire file e cartelle da terminale. Creare, eliminare, muovere, rinominare. In Linux ogni file è testo e non serve le estenità, dimensione .txt come in Windows. Nulla di più semplice che creare un file da terminale se non con il comando touch mio file. Tanto basta per trovare, anche con il file manager, un file vuoto nel percorso in cui il terminale si trova al momento dell'istruzione. Se vuoi creare il file in una cartella differente rispetto a quella in cui si trova il terminale, puoi indicargli il percorso di destinazione, in modo assoluto con touch slash home slash utente slash documenti slash nuovo file oppure relativo. Se ad esempio il terminale si trova nella tua cartella home, touch documenti slash nuovo file. Se esegui touch su un file o una cartella già esistenti, pur non alterando nel contenuto, la data di ultima modifica sarà aggiornata. Questo può tornare utile quando eventuali utilità di backup la analizzeranno. Per rimuovere il file precedentemente creato, puoi invocare il comando di rimozione seguito dal nome, preceduto da eventuale percorso se differente da quello in cui si trova il terminale. Per creare una cartella esiste il comando makedir . Se vuoi successivamente rimuoverla, usi ancora il comando rm, ma devi usare anche l'opzione –r per la cancellazione cosiddetta ricorsiva – di ulteriori file e cartelle in essa contenuti. E ovviamente devi indicare a Linux quale cartella vuoi eliminare. Per rinominare un file si usa il comando mv che sta per move. Infatti ciò che realmente avviene è che il suo contenuto viene spostato dal file originale a quello con nuovo nome. A mv devi indicare poi il file da rinominare ed il nuovo nome. Se il file si trova nel percorso attuale del terminale puoi digitare mv mio file mio file 2. Ma puoi anche rinominare e spostare in un solo comando il file digitando un percorso diverso per il file rinominato. mv mio file documenti slash mio nuovo file sposterà il file dalla cartella home a quella documenti assegnandogli un nuovo nome. Insomma, non è necessario che il terminale si trovi nella posizione del file che vuoi spostare, rinominare o eliminare purché tu ne indichi il percorso. E puoi usare mv anche con le cartelle allo stesso modo che con i file. Ha poco senso creare, rinominare e spostare file vuoti. E la shell di Linux non consente solo di impartire comandi, ma contiene anche programmi belli che completi. Un esempio di questi è Nano, il blocco note open source integrato ad oggi nella shell gnome di Linux Mint. Infatti ne esistono altri. Se hai ancora il file mio file nella tua directory home, prova a digitare nel prompt nano mio file e ti apparirà questo completo programma di video scrittura in tutto il suo splendore. Sto scherzando ovviamente. Perché rinunciare a LibreOffice Writer per questa solo apparente miseria? Se usando Linux ti trovi di fronte ad un errore o un problema, una rapida ricerca su Google, o meglio DuckDuckGo, possono confortarti nello scoprire che qualcun altro ha già avuto lo stesso problema e che è risolvibile. Se disgraziatamente non hai accesso ad internet e hai bisogno di informazioni su un comando shell, ask the man, cioè al manuale. Non hai idea di quante informazioni siano integrate in ogni distribuzione Linux semplicemente digitando nel terminale MAN seguito dal nome del comando passato come argomento. Con MANLS scoprirai tutte le opzioni e gli argomenti che possono venire passati al comando LS per ottenere dal sistema informazioni di ogni genere. Però è in inglese. Ecco alcuni dei miei comandi preferiti. Non c'è infatti nulla di più semplice per me che ottenere un file di testo in cui trovare all'istante l'intero contenuto della mia collezione di musica se non digitando nel terminale questo comando. Oppure solo delle cartelle e non anche dei file con questo. Oppure ottenere la compressione immediata di un pdf con una scansione decisamente troppo pesante per essere inviata via mail invocando il comando GS come segue. Oppure, in questa forma, per una riduzione ulteriore della qualità delle immagini contenute. Di queste possibilità parlo anche nel video sulla gestione di pdf che fa parte della serie legata all'uso di Linux Mint per lavoro. Anche estrarre una immagine ISO dal contenuto di un DVD, Blu-ray o CD è cosa facile con DD. Come accennato, la potenza della shell di Linux aumenta con le sue capacità di scripting, ovvero con la possibilità di inserire sequenze anche complesse di comandi in un unico file di testo e contare sul fatto che tali istruzioni possono venire eseguite sequenzialmente all'istante invocando un solo comando. Ecco perché ho accennato a bash e ai suoi script. Uno script bash può venire redatto con qualunque editor di testo. Basta avviare il file così. Il cosiddetto hashbang serve a dichiarare l'interprete di comandi che vuoi usare per eseguire i comandi successivi. Nella maggior parte delle distribuzioni Linux, bash è l'unica opzione disponibile. Come detto puoi digitare tutti i comandi che vuoi nelle linee eseguenti. Ad esempio puoi aggiungere il comando per l'estrazione di una immagine ISO da un CD o DVD. Puoi anche già salvare il file, ad esempio con il nome mio script, ed uscire dall'editor. Ma per poterlo eseguire devi prima contrassegnarlo come eseguibile e non come semplice file di testo quale ancora è. Per fare questo esegui nel terminale il seguente comando chmod. A questo punto per eseguirlo sarà sufficiente digitare nel terminale . slash mio script. Per eseguire lo script lo precediamo con il punto e con lo slash. In questo modo diciamo al terminale che vogliamo eseguire uno script che si trova nel suo percorso corrente. Ogni volta che invocherai da terminale . slash mio script sai che il lettore ottico sarà avviato ed il contenuto verrà estratta un'immagine ISO che troverai nella tua cartella home. Questo è un canale dedicato a Linux per principianti e oltre a non essere il luogo adatto per approfondire argomenti avanzati legati alla shell e allo scripting non sono neppure qualificato per poterlo fare in modo approfondito. Ma là fuori ci sono valide risorse, rintracciabili con le ricerche Lista Comandi Terminale Linux o Shell Scripting Linux e simili per lanciarsi oltre le immense possibilità di un desktop Linux. Questa voleva davvero essere solo una breve introduzione all'uso del terminale di Linux. Il tempo le statistiche mi diranno casomai se e come sia il caso di approfondire ulteriori aspetti dell'enorme potenza di Linux. Ti ricordo che nel blog, metto il link nella descrizione, trovi tutti i comandi e dalla pagina principale del canale trovi un'infinità di informazioni redatte appositamente per i principianti di Linux, per la scoperta, installazione, configurazione e le tantissime applicazioni di Linux Mint che rappresenta una validissima alternativa a Windows. Resta nei paraggi perché sta per essere rilasciata la versione 20.2 di Linux Mint e non mancherò di pubblicarne una recensione. Ti ringrazio per essere arrivato fino a qui nella visualizzazione. Arrivederci.